È il jeans, 39 viene da solo, 39 euro, bellissimo, portati, brava, dai un bacetto, sei già tutta zozza mi sembra, cosa hai fatto, cosa fai con quelle calze tu? Bellissimo, jeans chiaro con risvolto in fondo a zampa, regalato amica 39, favoloso, bellissimo, molto molto bello, ha vomitato? Ma proprio? Ma c'ha la febbre? Bellissimo, è un amore. Poi, allora vediamo un attimino le tute, il codice LRH 11,252 Salvia Arancio Bianca Azzurra, così, guardate che meraviglia Turchese e viola, bellissimo Favoloso, elegantissimo Abito da sera, da giorno, ovviamente in base alla scarpa che mettete, cambia ovviamente la direzione dell'outfit Amiche, sono nuovi, sono regalati, sono belli Tumisto, viscosa, turchese, glicine, spallina sottile 45 euro 45 euro Non ne ho tanti, ve lo dico Sono regalati nuovi New Collection per voi a prezzi incredibili Scegliete il colore che preferite Portateli a casa insieme alla botto 45 euro Abito elegante, di qualità Fa un 125 130 di giro seno Spallina sottile Regalato Regalato Poi si allarga, eh Regalato a 45 euro È una favola Scegliete il vostro colore Portatelo a casa Adesso Parliamo di abiti Di nuova collezione Dimmi, Giorgi No Con cappuccio no Esca pure tranquilla signora Trench con cappuccio in questo momento Non ne ho Amiche corrette Bellissimo Parliamo di un abito Io controllo le amiche Allora un bacino alla Nati Ciao Nati Grazie alla mia amica Anna Maria Vediamo Instagram Correte amiche Grazie Ma so che vi sarebbero piaciuti Vi dico una cosa Questi qui stanno da Dio Come l'ho messo prima Col giacchino Di pelle sopra, eh Colori meravigliose Glicine turchese Pazzesco Guardatelo col giubbottino Così intanto Che poi tanto lo so che me lo chiedete Favolosa Aspettate che Mettiamo questo qua Bellissimo Vedete come stanno da Dio Da giorno e da sera Eccezionale Parliamo di abito Parliamo di abito In misto Viscosa 45 euro Nelle due colorazioni Guardatelo col giacchino Il giacchino è il nostro solito Coltula 59 Sono regalati Amiche Non aspettate Parliamo di qualità Pazzesche Parliamo di prezzi Incredibili 59 il giubbottino V2330 Abiti New collection Azzurro No azzurro Turchese Glicine 45 euro Wow Non aspettate Correte a confermare Sono regalati Amiche Non potete aspettare Dovete agire Tutte le amiche Tutte le amiche Che vogliono No No Spallina normale Non è regolabile Bella ampia Ma è normale Regalati amiche A 45 euro Nuove collezioni Correte a confermare Sono pazzesche Bellissime Troppo belli Troppo belli Eleganti Fine Di qualità Sottocosto Amiche A 45 euro Per voi Grazie per l'innovazione Perché vedo che comunque Vi sono piaciuti Sono eccezionali Non aspettate Perché poi lo sapete Come finisce Finisce Che non li trovate più Quindi Quindi Se vi piacciono Correte ora Spallina sottile Primavera Estate Lungo Bello da mettere Anche con una ciabattina Con una scarpa Da ginnastica Da ginnastica Regalati a 45 euro Non aspettate Allora andiamola a vedere Jerome Da vicino Senza che poveraccia La spoglio ancora più del dovuto Guardatevelo bene Che io Arrivo Bellissimi A 45 euro 2 a 70 Parliamo di giubbottino No Quadruple extra large Non tripla Quadruple extra large Mentre rosso Doppia extra large Allora Azzurro è Quadruple extra large Te li ridico Jerome Perché sei più pappato di me Con la cernierina lampo Con le taschine Sono affiancati Sono carini Eleganti 45 euro 1 70 euro 2 Favolosi Favolosi Regalati a questa cifra Tutte le impunture Sono burro Bello 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 Questo che indosso io Una media Per me Ovviamente È grande Azzurro polvere E rosso Sono questi qui Eccezionali Guardate che meraviglia Laterale elasticizzato Color cuoio Favoloso Con cerniera E tasche Con vedete L'aggancino qui Sono regalati Regalati amiche A 45 euro Correte 45 euro Sono le ultime Taglie a disposizione Poi questo giubbotto È sold out 45 euro Bellissimo Non Non